Ancora ben trovati con l'informazione di Milano Pavia News edizione Pavia. Vediamo i principali fatti di questa giornata. Anche l'ex allenatore del Voghera, Marco Molluso, finisce nell'inchiesta dell'antimafia che ha portato al sequestro di otto campi da padre in un centro sportivo di Milano. Cresce tra la quantità di rifiuti urbani prodotti, ma anche a livello nazionale la percentuale di differenziata. La provincia di Pavia è però in controtendenza e scende ancora. Le istituzioni guardano le difficoltà delle persone più povere a chi non ha una casa. L'appello è lanciato da sindacati e associazioni al lavoro in questa difficile battaglia. È Daniele Comini, 27 anni da un mese, il nuovo capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Pavia, una nomina arrivata dopo l'espulsione di Roberto Mura, passato al Comitato Nord. Restare aperta fino al 30 aprile la mostra dedicata a Vittorio Necchia all'interno delle storie del Broletto, un'esposizione che vuole raccontare una delle più avvincenti storie industriali del Novecento. Diversi campi da padel sequestrati, un imprenditore ai domiciliari è l'operazione, come avete sentito in apertura, condotta dall'antimafia a Milano. L'imprenditore arrestato è Marco Molluso, ex allenatore tra gli altri di Voghera ai domiciliari per false fatture e autoriciclaggio. Sentiamo. Anche l'ex allenatore del Voghera, Marco Molluso, finisce nella rete della direzione distrettuale antimafia nell'inchiesta che ha portato al sequestro preventivo di otto campi da padel costruiti negli anni scorsi in un centro sportivo di Milano. Secondo il PM, Silvia Bonardi, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare per Molluso, la costruzione di questi campi del valore di circa 700 mila euro sarebbe stata finanziata con soldi ricavati da attività illegali come false fatturazioni. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che una delle società riconducibili ai suoi figli aveva partecipato alla realizzazione degli otto campi da padel all'interno di un centro sportivo comunale, assegnato poi in concessione ad una società dilettantistica milanese. Gli impianti sono stati sequestrati, risultando fra l'altro edificati in modo totalmente abusivo e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte degli uffici competenti. Nel corso delle attività investigative sono stati poi raccolti gravi indizi per affermare come l'ex allenatore del Voghera, residente a Bucinasco, dopo aver sottoscritto un contratto di prestazione d'opera, risultato poi inesistente con la società che gestisce in concessione il centro sportivo avrebbe finanziato e costruito i campi potendo contare su profitti illeciti derivanti dalla commissione di numerosi reati fiscali, con l'obiettivo di partecipare agli incassi derivanti dal loro noleggio ai cittadini. In particolare, fra il 2020 e il 2021, la società immobiliare di cui è titolare sarebbe stata al centro di una frode fiscale da oltre un milione e mezzo di euro, legata sia all'emissione che all'utilizzo di fatture false con indebita detrazione dell'IVA. L'ultimo pagina perché sempre più famiglie sono in difficoltà economiche, a causa della carovita da un lato, l'emergenza abitativa che affligge tanti nuclei familiari in provincia di Pavia, l'allarme lanciato da chi vive quotidianamente accanto a queste situazioni, ovvero associazioni e sindacati chiedono un intervento da parte delle istituzioni competenti. Le istituzioni e la politica guardino alle difficoltà delle persone più povere e di chi non ha una casa. È l'appello lanciato dal sindacato di base, dalla CUB e dall'Assemblea per il diritto alla casa che si sono riuniti per portare avanti una battaglia comune in questi mesi difficili. Da un lato c'è l'emergenza sfratti, più di un migliaio quelli autorizzati in provincia di Pavia. Dall'altro le precarie condizioni di lavoro di tante persone, soprattutto chi è sotto contratto con cooperative e imprese che vincono appalti. I poveri sono tanti e nessuno li guarda, questo è molto grave. Noi, dopo di tanto, perché noi siamo un sindacato e il diritto per la casa, poi siamo un po' pochi, non siamo troppi militanti. Questa volta invece, perché le esigenze sono di tutti, di pari passo, e allora abbiamo fatto una cosa insieme tutti e noi siamo quattro associazioni, due sindacati, tre sindacati più il diritto per la casa che ha partecipato a questa cosa. Gli abbiamo promesso, e lo faremo alle istituzioni, che andremo ancora a trovarli. Visto che loro, insomma, le portano a fare fatica di aprirle, noi busseremo e cercheremo di entrare, parlare con loro per vedere se poi le cose che vogliono fare o non vogliono fare. Un caso limite è quello dei lavoratori e delle lavoratrici di cooperative che lavorano al San Matteo, che saranno costretti a pagare il parcheggio dal primo gennaio, nonostante i loro stipendi siano di poche centinaia di euro al mese. Persone che lavorano e che non guadagnano più di 400 euro al mese. Un altro problema è legato anche al personale del Policlinico, non parliamo soltanto di chi si occupa di pulizia, ma tutti quelli che lavorano lì in appalto, che si ritrovano oggi a dover pagare per lavorare, anche il posteggio, o quantomeno dal primo di gennaio del 2023, verrà sbarrato tutto, quindi chi dovrà andare a lavorare sarà costretto a pagare quelle 4-5 euro al giorno per poter lavorare, è una cosa assolutamente, secondo me, ridicola, assurda, considerando poi gli stipendi che si prendono. Detto questo, ci troviamo anche ad affrontare problemi molto gravi su gente che lavora, che cerca di star sempre nell'ecito, nella legalità, ma che poi si ritrova per via degli stipendi che percepiscono a non poter pagare gli affitti. Proprio il caro affitti e gli sfratti sono temi che gli attivisti dell'Assemblea per il diritto alla casa seguono da tempo e la situazione, spiegano, sta peggiorando ormai da diversi mesi. Sì, le persone continuano ad arrivare, i casi continuano ad arrivare e sempre più persone, come dicevo, pur lavorando, pur avendo uno stipendio, fanno fatica a pagare l'affitto. Questo è un problema molto grave che conduce poi inevitabilmente allo sfratto, perché quando ci sono le mensalità arretrate. però sì, la situazione sta diventando sempre più grave, noi andiamo avanti per la nostra strada e andiamo avanti a lottare come abbiamo sempre fatto, però dall'altro lato vediamo che la risposta delle istituzioni è assolutamente inadeguata. E non arrivano buone notizie sul fronte della raccolta dei rifiuti con gli ultimi dati pubblicati che parlano di un incremento della differenziata a livello nazionale e il dato invece della provincia di Pavia resta ben al di sotto. Cresce la quantità di rifiuti urbani prodotti, ma anche almeno a livello nazionale, la percentuale di differenziata che raggiunge il 64%, ormai a un soffio dal traguardo minimo del 65%, è quanto emerge dal rapporto rifiuti urbani 2022 che riporta i dati relativi all'anno precedente, il 2021, appena presentato da Ispra l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Purtroppo però, ancora una volta, la provincia di Pavia è in controtendenza, la differenziata già tutt'altro che brillante, ad eccezione di alcune realtà locali, scende dal 58,1% al 57,5%. Sebbene l'Italia in generale faccia meglio, va detto che per la Lombardia, come per Pavia, il trend è in discesa, la regione passa dal 73,3% al 70%, migliorano le performance soltanto le province di Lecco, Bergamo, Sondrio e Como, reginetta nazionale della differenziata che sfiora il 92%, ma al di là delle tendenze e delle variazioni di pochi decimali, la provincia di Pavia scivola all'ultimo posto in Lombardia, superata anche da Sondrio. Impietosi, sempre salvo le eccezioni virtuose, i dati per comune, i municipi che non sono ancora riusciti a raggiungere il minimo sindacale del 65%, sono infatti ben 138, tre in più del 2020, e fra questi anche il comune capoluogo, Pavia, che arretra dal 65,2% al 60,5%, sebbene ASM abbia spiegato che questo passo indietro sia da imputare a una modifica del metodo di conteggio dei rifiuti differenziati. Al di là dei tecnicismi, comunque, emerge una provincia, quella di Pavia, soprattutto nella zona dell'Oltrepo, che fatica moltissimo a mettersi al passo con i tempi. L'obiettivo minimo è stato raggiunto infatti solo da 48 comuni, soltanto tre superano l'80%, ovvero Torre d'Isola e Travacossico Mario, che sfiorano addirittura il 90%, e Codevilla. Risultati buoni poi per Groppello Cairoli, Borgarello, Cavamanara, Casorate, Rosasco, Zinasco, Castelnovetto, Candia Lomellina e Cassolnovo, tutti sopra al 70%. Questo quadro generale abbiamo sentito di difficoltà, ma non mancano, come citato nel servizio, esempi virtuosi da seguire, come tra gli altri, proprio Travacò, Torre d'Isola e Codevilla. Vediamo. Tariffa puntuale e iniziative per la riduzione dei rifiuti, anche attraverso il riuso. È anche così che i comuni più virtuosi, in termini di raccolta differenziata dei rifiuti, come Codevilla, che assieme a Torre d'Isola e a Travacossico Mario e sul podio della provincia di Pavia, con valori sopra l'80%, si prova a mettere in pratica quella che già oggi è una necessità vitale per le comunità. Assureremo l'81%, è un ottimo risultato. Per la prima volta abbiamo sfondato questa soglia psicologica. Quest'anno è iniziata anche la raccolta con la tariffa puntuale. Di cosa si tratta? Allora, dal primo semestre dell'anno abbiamo sperimentato questo nuovo sistema che porterà i cittadini di Codevilla a pagare la tariffa puntuale in proporzione ai rifiuti effettivamente prodotti. Difatti tariffa puntuale. Il paradigma è più produci rifiuti e più paghi. Quindi per incentivare la differenziazione, quindi la suddivisione carta, plastica, vetro, organico e spingerla proprio agli estremi, una delle soluzioni è la tariffa puntuale e noi, d'accordo con ASM, stiamo facendo questa sperimentazione, che poi speriamo verrà estesa anche agli altri comuni che fanno parte di ASM e Voghera. Per quanto riguarda sempre la tariffa puntuale, dicevo, i primi sei mesi sono stati l'effettiva sperimentazione dove abbiamo spiegato ai cittadini e alle ditte come funzionava questo sistema, che è un sacchetto dotato di un microchip che viene letto dai camioncini per la raccolta differenziata e sommati in maniera settimanale ai quantitativi che consentono poi di determinare l'Atari. Le ditte invece hanno i cassonetti che sono dotati a loro volta di un bottone che emette un segnale che viene raccolto da questi camioncini. A fine anno faremo il calcolo del quantitativo di rifiuti e l'anno prossimo la tariffa rifiuti sarà effettivamente proporzionale ai rifiuti che ciascuno ha prodotto. Già oggi però questa attività che è iniziata, lo ricordiamo ormai alcuni anni fa, che ha portato questi risultati, ha permesso di comunque calmirare quantomeno l'impatto della tariffa sulle famiglie. Assolutamente sì, due anni fa sul finire del 2020 abbiamo rinnovato il contratto di raccolta rifiuti con ASM, la tariffa del 2021 e la tariffa del 2022, seppur doveva incrementarsi per i costi che sono stati attribuiti alla Comunico de Villa dal nuovo contratto, sono stati riassorbiti dal minore quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti da Codevilla. Quindi la tariffa, ad eccezione di qualche famiglia più numerosa, è rimasta pari e oramai sono cinque anni che i codevillesi più o meno pagano sempre la stessa tariffa, in controtendenza rispetto ad altri comuni che invece hanno visto di evitare i costi di questa tassa. Passiamo alla politica, alle questioni interne alla Lega di Pavia, ricorderete nei giorni scorsi l'espulsione del capogruppo, il consigliere regionale Roberto Mora per l'adesione al Comitato Nord di Umberto Bossi, dopo la rinuncia al ruolo di capogruppo è stato designato il successore e si può dire proprio che la Lega punti sulla linea verde visto che è il 27enne. Daniele Comini. È Daniele Comini il nuovo capogruppo della Lega in consiglio comunale a Pavia, una nomina che arriva dopo l'espulsione del collega Roberto Mora, colpevole secondo il partito, di aver aderito al Comitato Nord voluto da Umberto Bossi in rotta con il leader Matteo Salvini. La vice capogruppo sarà Eugenia Marchetti, già presidente della Commissione Bilancio. Una scelta condivisa, spiega la stessa Marchetti, assieme agli altri consiglieri abbiamo voluto dare una spinta nuova e diversa, per continuare a collaborare insieme a sindaco e assessori in quest'ultimo anno e mezzo di legislatura. Un cambio di rotta insomma, per certi versi obbligato, ma che secondo Marchetti servirà a rilanciare l'attività dell'intero gruppo consigliare. Soddisfatto anche il nuovo capogruppo Comini, che ha commentato così la sua nomina. Nella serata di ieri, prima dell'inizio della seduta di consiglio comunale, il mio gruppo si è riunito per dare un nuovo assetto organizzativo interno. Mi sono proposto come nuovo capogruppo in consiglio comunale. La mia proposta è stata accolta dai colleghi all'unanimità. Questo mi dà una grossa responsabilità e soddisfazione. Cercherò di portare avanti il mio incarico con serietà, impegno e responsabilità per dare un nuovo slancio all'azione amministrativa del mio gruppo, ma dell'intero gruppo di maggioranza. Ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi i colleghi consigliere Mura e consigliere Tilocca. Mi accompagnerà in questo percorso come vice capogruppo la collega e consigliera Marchetti. Classifiche e statistiche più in generale non sorridono alla provincia di Pavia. Abbiamo visto i dati relativi alla raccolta differenziata. Non va meglio sul fronte dei trasporti perché nel mese di ottobre la linea Voghera-Piacenza è stata decretata la peggiore di tutta la regione e scatteranno dei bonus per i pendolari. Sentiamo. La peggiore, per ammissione della stessa Trenord, è la Voghera-Piacenza che quanto a ritardi e cancellazioni ha fatto peggio di tutta la Lombardia in ottobre ma non va molto meglio anche sull'Alessandria-Mortara-Milano. Lo ha messo nero su bianco la compagnia di trasporti Trenord in un report appena pubblicato che riguarda le direttrici regionali che non sono riuscite a rispettare lo standard minimo di affidabilità previsto dal contratto e che registra in particolare ritardi e soppressioni delle corse. Il limite fissato per i disservizi è del 5% e sulla Voghera-Piacenza ad ottobre si è toccato il 12,41%, poco più dell'8% invece sull'Alessandria-Mortara-Milano e percentuali vicine al 6% sulla Pavia-Alessandria e sulla Stradella-Milano. A fronte di questo Trenord ha previsto uno sconto del 30% per i pendolari di queste linee per l'abbonamento mensile di gennaio ma secondo gli stessi pendolari sarebbe meglio avere un servizio efficiente senza sconti che uno scadente scontato. I dati del mese di ottobre certificano per l'ennesima volta che le linee ferroviarie che attraversano la provincia di Pavia sono in sofferenza ormai da anni come risultano tutti i rilevamenti da ottobre andando indietro negli ultimi anni. In particolare nella provincia di Pavia le linee che stanno soffrendo di più sono la Goriera-Piacenza, Milano-Stradella e Milano-Mortara-Alessandria per una serie di motivi legati soprattutto alla vetustatio, alla vecchiaia del materiale rotabile in parte ai lavori sulle linee ma soprattutto la qualità del servizio dipende dal materiale rotabile che è abbastanza anziano e su queste linee non è ancora previsto l'introduzione di materiale nuovo come sta avvenendo su altre linee della Lombardia. Questo sconto introdotto del 30% per i pendolari insomma i clienti di Trenord che hanno subito per così dire appunto i disservizi maggiori come vi trova? Cosa ne pensate? Questo è il famoso bonus ferroviario per questo contratto di servizio tra Regione Lombardia e Trenord diciamo che è un piccolo segnale per rimborsare, indemnizzare i titolari di abbonamento mensile o annuale per i disservizi che vengono messi in mente sulle singole direttrici onestamente i viaggiatori siccome questi servizi sono ormai regolari da anni i viaggiatori preferirebbero un servizio di qualità più alta piuttosto che avere un indennizio parziale che da episodi ormai è abbastanza costante e continuo nell'arco temporale degli ultimi anni. Torniamo a Pavia per una bella mostra dedicata a Vittorio Necchia e la sua storia industriale ospitata dal Palazzo del Broletto fino alla fine di aprile. Rimarrà aperta fino al 30 aprile la mostra dedicata a Vittorio Necchi all'interno delle sale del Broletto di Pavia un'esposizione che vuole raccontare una delle più avvincenti storie industriali del Novecento attraverso le storiche macchine da cucire ma anche con foto, documenti e oggetti inediti di proprietà esclusiva dell'associazione Necchi Pavia Italia anche l'artista pavese Yuko ha fornito diverso materiale compresi alcuni prototipi prodotti dalla Necchi Questa mostra è stata dedicata appunto alla figura di Vittorio Necchi e a tutto il suo mondo e il suo mondo è a Pavia ci sono cinque aree tematiche che sviluppano tutto quello che è stata la storia dell'azienda quindi partiamo proprio dall'Ottocento ancora da quando era una piccola fonderia per poi arrivare ai grandi successi del Novecento ci sono appunto, non potevano mancare le macchine per cucire c'è la prima che è praticamente degli anni Venti e poi arriviamo a macchine già degli anni, insomma agli anni Ottanta quando le macchine ormai erano addirittura computerizzate quindi l'evoluzione dalla meccanica all'elettronica tutti i documenti esposti sono assolutamente originali e provengono dal mio archivio ci sono documenti che vanno dall'Ottocento appunto fino alla fine del Novecento cose curiose, ho portato qua dei registrazionari originali che sono molto belli anche a livello di rilegatura ma soprattutto contengono la firma autografa di Vittorio Necchi poi ci sono un biglietto originale degli anni Ottanta del Necchi Pavia Basket altra cosa, il basket che sta nel cuore dei pavesi e poi bozzetti, fatture e oggetti curiosi che pochi conoscono della Necchi tipo un vibromassaggiatore, un ferro da stiro, una fila coltelli nelle prossime settimane saranno realizzate visite guidate e visite teatralizzate queste ultime accompagneranno i turisti attraverso i luoghi della città legati alla vita di Vittorio Necchi dalla prima fonderia alla villa dove abitava per poi arrivare alla mostra in Broletto l'obiettivo dell'amministrazione comunale però è quello di coinvolgere anche i ragazzi delle scuole una mostra museo che terremo fino al 30 di aprile ma probabilmente sarà anche prorogata e che coinvolgerà le scuole per quanto riguarda appunto la cultura d'impresa di cui Pavia è appena stata insignita del titolo per il 2023 di capitale appunto della cultura d'impresa mi sento veramente contenta e orgogliosa per questo progetto un progetto che vede la collaborazione di Asso Lombarda, di Supernova, di Camera di Commercio e ovviamente di Necchi Pavia, dell'associazione Necchi Pavia quindi un insieme appunto di forze per dare appunto slancio ancora una volta di più alla nostra città, al turismo e poi di conseguenza al commercio e torna anche per l'anno prossimo il calendario di Wildman l'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare il progetto Siamo un'opera d'arte che vuole rispondere al bisogno di confronto promuovendo l'idea che ciascuno di noi è un bene prezioso, unico e ripetibile proprio come un'opera d'arte per il sesto anno Wildman ha deciso di sviluppare la progettualità rendendo ancora protagonisti soci e volontari dell'associazione per trasformarli nei protagonisti di copertine di dischi riprodotte in scatti fotografici di Fabio Salmoirago stiamo vedendo quella celebre di Abbey Road per il calendario 2023, anno della crescita e della voglia di superare la paura si è deciso di celebrare l'arte della musica che trasmette serenità e accompagna gran parte delle nostre giornate questa è anche la nostra ultima notizia siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di prima serata con itinerari e la puntata a Giussago a Giussago